un po arti ho provato parvio no non si citiamo un cazzo oggi chi da subito è perfetto e non dobbiamo superare la mappa sopra lì in ogni modo possibile e ma è già morto perché sono tali quale pecore ma è morta ma immortale la pecore la rigenerazione perfetto funziona grande arti proprio suddividuo il primo che ho visto sull'albero l'ho ucciso a che bello bravo vai 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 cazzo spacco il ponte ci muoio ci muoio ci muoio cane ma io tutte le spade ragazzi muoio ci muoio tutte ma perché siete così nabbi ma io ragazzo da qui che aspetto mezz'ora ma ti ho visto prendere la carne marcia fino adesso o la cop di cane arti vuolo sempre a me i colpi non sono morto via tutta la roba di hayden ora 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 via tutto che stronzo l'ho ucciso aspetta faccio io no porco no cosa no no via oh mio dio pazzo non entrare oggi corta la cassa di tutta e tutta ma faccio oh mio dio io non l'ho aperto altra vita ok io non ho paura a lanciare l'enter aspetta aspetta prima mi dovete dare un po' di cibo se non muoio ragazzi vado prima io yeah ho lusciato di brutto dammi cane 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 un po' di cibo te lo sei ripreso ancora hai rotto mi hai buttato mi hai buttato giù oddio cane ho sbagliato lo stavo chè no no sei di ti da me da me da me da me da me qualcuno mi fa compagnia no faiole ecco qua no no card mi piace che cazzo stai facendo arti sono morto magico io ce l'ho fatta yeee ce l'ho fatta ma sono con mezzo cuore oh e sti cazzo yeee ho lusciato di brutto che poi perchè non prendono sole mi sono sbagliato ah grazie ma cane ciao sbagami eh eh non ti sbagli no la roba non c'è no non ci credo a fare un parkour ahahahah ahahahah e cazzo stai che lui ahahahah ahahahah dai di bled che poi pensa che sono stato io siiii sono stato oh ha sbagliato il comando te l'hai portato dentro item vai oh oh mamma mia che culo no cane no oh sono dentro oh ecco cane riprendi item guardalo ahahahah dai no ok no ma chi è esso io no io non l'ho fatto niente io neanche questa volta ero dentro non potevo dobbiamo oh vai oh che cazzo è madonna linza no fermi fermi faccio così fermi ho del materiale per fare il vetro per fare il ponte del vetro tieni matto tieni tieni con un santo che vengo sopra sto ponte ahahahah con lo shift dai esatto abbiamo provato già la prima lana già dopo un'oretta ma quel cazzo dopo tre ore ma tu sei pazzo che me ne vado qui vado io vado io vado io quando perdo tutto stavo cadendo mi ha caricato la lana per fare il cazzo fermo vieni Arti fermo non mi fa piazzare va veramente ma oh what che c'è che sei ucciso ma ma io sei scemo tu non ho mandato ed è morto toglie oh mia vera madunina che c'è basta sono di cristo in croce no basta tranquillo che hai fatto no no non voglio dire non ho problemi io non lo conosco quindi no non lo conosco ho fatto la fine dell'ultimo no 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 oh no 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 il cazzo di microfono chissà che c'è fatto, chissà che cosa gli hai messo in quel microfono, qualche illimido, però non sento più David? RUNAI! E devo RUNAZENO! Io sono un anticipo che ha segnato grazie incredibile! Sono già fissato di Stani mi sono appena più costruosa ma ragazzi io non vi vedo, perché? perché sei cieco di Pappi sono caduto da solo perché? no, assolutamente non sei ma scusa non sei da la chat ma sei l'artiv non sei eliminato, stai giocando ma che cazzo sei giocato da solo, ma che cazzo sta succedendo cosa? ti ricordi infatti si ok mi ricordo, però comunque ecco lui doveva essere lì fantastico fantastico cosa? ma che cazzo sta succedendo? ma perché hai una tunica di pelle di sbopa? ma è το sì anche il bianco ma non ci credo c'ho la roba ma cazzo